buongiorno buon pomeriggio buonasera ragazzi bentornati qui con me ancora una volta su test drive con questo niss su questo come che che cavolo era un audi q7 modificato iper potenziato di non so chi il terzo in classifica è boh non me lo dice e lo vedo lì stuart wintory credo si oddio oddio iniziamo buonissimo siamo qui sulle colline del del hawai ancora una volta per finire il campionato e le dei suv potenti e devastanti e nulla di più basta quindi questa è la gara vi ricordo che la serie insomma ormai sta per concludersi mancheranno penso 10 15 video al massimo quindi insomma libererò un po di spazio sul canale per fare un po più di sicuramente league of legend che mi occupa cioè mi occupa mi costa meno tempo nel senso che ci gioco comunque e quindi caricherò quei video di però magari troverò anche qualcos'altro da portarvi di qua e vedremo insomma di volta in volta comunque ormai la serie sta per andare a finire vi ricordo di seguirla fino alla fine perché ora iniziano le auto veramente belle e quindi vi conviene vi conviene seguirla nel senso che per ora va bene ci siamo divertiti ho fatto tutto il casino possibile tipo questo muro che poi non è un muro ma un albero però insomma le auto che abbiamo usato finora alcune molto carine ma nulla di esaltante adesso invece arrivano i veri propri bolidi se così si possono definire ovviamente qui si è inchiodata perché c'era un salto e quindi mi sembra giusto mi sembra corretto che quando c'è il salto la macchina si inchiodi come al solito tanto per cambiare va bene è 11 secondi di vantaggio che saranno diventati 5 o 6 non di più perché tanto mi sono appena stampato quindi c'è poco da fare da che parte è? 7 vabbè 7 secondi e anche quello è abbastanza unesto ultimo checkpoint urca 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 lo prendo prendo anche questo prendo anche qualcos'altro tipo questo e vai perdo sicuro no no arriva 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 taglia di la strada taglia di la strada aiuto non glielo ho tagliata dov'è a 400 metri perdo e lo sapevo c'è tutto sto casino e alla fine perdo come un mongolo no avevo 11 secondi di vantaggio va bene fa niente ho perso amen sopravvivremo anche senza una vittoria tanto sono davanti di un macello di punti e lo so che ti arrabbi ma perché sono scemo e lo so d'altronde quando uno è cretino è cretino dall'inizio alla fine non è che si ferma a metà vediamo di fare anche questa oggi vi finisco il campionato dai oggi anche se sono sedici gare ve le faccio tutte e basta lì se no qua veramente ci metto due secoli veloce veloce a partire rapido 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 pronti pronti tanto dovrei vincerlo comunque il campionato anche se le perdo tutte tipo cioè no se arrivo ultimo no però vabbè dai si pronti via dai date una mossa 3 2 1 si il tempo che perde tutto negli intermezzi perché perdo come ho detto già mille volte almeno un minuto tra una gara e l'altra non lo facesse perdere sta stademente di una miami harris no chi è lei si miami harris o l'altra è secondo me è più a nord vabbè forse non ho perso tanto esatto anzi ho addirittura adesso non è che però devo fare tutta la gara in mezzo ai pronti oddio no no sì 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 dai perché non arrivo ultimo no non ho più o meno cosa avrò 15 secondi vediamo 10 beh pensavo di più beh 10 non dico che sono recuperabili ma non arrivo ultimo poco ma sicuro vediamo 9 se recupero un un cosa checkpoint capace anche che vinco la gara ecco no dai e adesso saranno diventati 14 esatto facciamo che non lo so non volevo arrivare ultimo ecco tutto qui adesso so che non vinco perché con 14 secondi non si vince però non volevo neanche arrivare ultimo ecco mancano c'è un botto di checkpoint in teoria tra 10 secondi dovrei essere arrivato 1 minuto e 48 non so sicuro 14 secondi e 91 e questo come fa ad arrivare 13 secondi e 10 13 secondi e 48 come sono arrivato sesto ottavo e vai premio 0 punti 0 vediamo come sono beh non male per ora ce la teniamo buona dai ultimo in classifica no ultimo in classifica oddio ridico devo vincere le prossime due gare sennò sennò non vinco il campionato per forza allora innanzitutto devo buttare fuori Miami nella gara nella gara però in questa qui devo quantomeno vincere che almeno ah potevo usare la webcam vabbè me la sono dimenticata fa niente dai dicevo devo per forza vincere perché qui almeno torniamo in pari e poi devo arrivare davanti a Miami qualunque cosa succeda vediamo 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 3 2 1 go questo dura un po' di più 2 minuti e 22 però vabbè insomma non è neanche troppo quindi comunque dovrei riuscire a stare dentro al quarto d'ora credo oddio non si è inchiodato e già questo è un miracolo ho un secondo e 38 di vantaggio ho sbagliato tasto volevo fare freno a mano e invece ho fatto il torno in pista però qui ho perso tantissimo e ho perso ancora adesso anche su questo checkpoint perché pensavo fosse un tornante invece era una curva a 90 gradi vabbè infatti vedete sono tornato praticamente in pari eh queste due le ho fatte discretamente infatti ho guadagnato qualcosina poca roba ma insomma meglio che niente anche qui ho guadagnato qualcosina poca poca qui ho perso perché ho frenato troppo ma vabbè oh anche qui non si è inchiodata allora è un vizio oggi un miracolo ciò però ho perso vediamo se riusciamo a vincere devo vincere c'è poco da fare ho mezzo secondo di ritardo quindi comunque qua sicuro qua ho guadagnato qui si inchioda no miracolo ve l'avevo detto che avevo guadagnato qui sto cercando le scorciatoie più estreme 2 secondi e 62 ragazzi qua ho guadagnato ancora 3 secondi e 75 attenzione KB si le inventa le strade tanto col sub funziona guarda qua 4 secondi e 27 KB inventa le strade basta ho vinto 500 metri non c'è nulla che si possa mettere fra me e la vittoria adesso passa un capriolo davanti no però in teoria KB vince con quasi 6 secondi di vantaggio e ritorna in pari con Miami no Miami non so come ha perso un botto quindi ho 6 punti di vantaggio oddio grande cioè sto campionato ho fatto pochissimi punti cioè sono tipo 8 gare 6 per 10 60 ne farò 40 sennò me la fai fare? grazie 2 chilometri 8 mi distanziano dalla fine di questo campionato che me lo porto a casa anche questo ve lo dico me lo porto a casa me lo porto a casa me lo porto in saccoccia ragazzi siamo pronti? siamo pronti? no non siamo pronti dai una mossa macchina lavata bella pulita bella fresca nuova linda e profumata se Miami Harris c'ha la Spiker non lo so si si la vedo lì dentro con il suo vestito rosso quindi adesso cerco di farle perdere tempo tipo così non so se funziona è che rallentano tutti poi boom no abbiamo provato a farla rallentare ovviamente rallentano tutti compresa lei mica va fuori ora è andata fuori no 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 ah guarda lei è ultima figata direi che ho vinto il campionato ci sono riuscita KB pista manda in fondo alla classifica Miami Harris che non credo che in 10 checkpoint riuscirà a recuperare tutto sto distacco o almeno spero qui devo farla meno però vabbè zan zan no no ragazzi no no lo piglio comunque lo piglio comunque lo piglio comunque e vai era Miami o Tess chi se lo ricordo vabbè scintille 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 vai così spacca il mondo vinci tutto forza me la gara è finita va bene andiamo a vincere il campionato non so quanti soldi avrò ma tanti presumo e mi sa che poi c'è l'A4 Elite il B3 Elite e poi iniziano le auto veramente selvagge se così possiamo chiamarle qui si vola oddio ancora un po' mi cappotto fa niente andiamo 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 zacchete taglia il traguardo per primo eccolo lì B3 Elite disponibile non ho visto quanti soldi ho ma presumo tanti dato che ho vinto vi ringrazio vi saluto e come al solito ci si vede con i prossimi video bella